Buongiorno a tutti, aspettiamo qualche minuto che si colleghino tutti e poi iniziamo. Ok, mi sembra che il numero di partecipanti si sia più o meno stabilizzato. Quindi benvenuti a tutti, grazie per essere qui con noi di ABB durante i Digital Career Days di Toscana e Liguria. Vi do giusto qualche informazione di apertura un po' più tecnica. Avremo alla fine del webinar una sessione di domande di Q&A, quindi domande e risposte. Per la gestione delle domande potete usare il tab in basso Q&A, quindi cliccando potete inserire la vostra domanda e noi valuteremo magari anche in base al tempo a disposizione e al tipo di domanda se rispondervi privatamente o appunto durante il webinar apertamente avanti a tutti, così condividiamo l'informazione anche per le altre persone che ci ascoltano. Quindi questa è un po' la parte più tecnica legata alle domande, se invece avete problemi più legati alla piattaforma di connessione c'è la chat, appunto il tab chat in basso. Io sono Gaia Calza e mi occupo di risorse umane, ma parlerò alla fine di questo intervento. Prima lascio la parola ai miei tre colleghi e do subito la parola a Giovanni che vi parlerà di ABB. Intanto, grazie Gaia, buon pomeriggio a tutti. Giovanni Gori, Global Planning and Fulfillment Manager per la divisione e Mobility e oggi andremo un po' a capire che cos'è ABB e soprattutto che cos'è la divisione e Mobility. Andiamo a condividere alcune slide che ci guideranno. Allora, intanto iniziamo a parlare di che cos'è ABB, è un'azienda ormai multinazionale con 130 anni di storia nata dalla fusione di due storiche aziende, svizzero e svedese, Asai e Braun Boveri, che hanno l'headquarter a Zurigo e che in Italia sono presenti in maniera importante. A livello globale contano 105.000 dipendenti e siamo intorno all'anno scorso a un fatturato di 26 billion, quindi è una realtà importante. Che cosa offre ABB? Non soltanto prodotti, e poi li andremo un po' a vedere, ma sistemi, quindi soluzioni e anche il mondo digitale. Quindi è un'azienda ABB che è partita da produrre oggetti, dell'elettronica soprattutto, ma che ora offre soluzioni che abbracciano veramente dalla parte più meccanica e tecnica alla parte proprio di digitale. Con chi lavoriamo? Lavoriamo sicuramente con le utilities, in Italia Enel soprattutto, con il mondo delle industrie e con le infrastrutture, quindi parte treni, tutto quello che è i mobility anche, e andremo a affrontare dopo. Siamo presenti in tutto il mondo e in Italia la nostra presenza è sicuramente importante. Come tutte le multinazionali, ABB è divisa in diverse aree che sono focalizzate per offrire ai nostri clienti delle soluzioni a 360 gradi. Quindi vedete qui le business aree, electrification, process automation, motion e robotics, che mirano proprio a questo tipo di obiettivo. Come tutte le multinazionali, ultimamente si è cercato di decentralizzare il controllo per essere più vicini ai clienti. Il modello della startup che è dinamica, agile, è quello che la sta facendo un po' da focal point, da il miglior punto di partenza per garantire soluzioni che siano quello che il cliente ci chiede. E-Mobility, per esempio, è nata ora a marzo, è la divisione di cui faccio parte, proprio in questa ottica c'era necessità, c'era un'opportunità, c'era necessità di essere focalizzati in quello ed è nata un'entità a sé stante che giova dell'ecosistema ABB, ma che ha l'autonomia di muoversi con investimenti e team in maniera molto focalizzata. La presenza in Italia, dicevamo, abbiamo 4.600 dipendenti, 19 sedi, il nostro headquarter in Italia è vicino a Milano, stesso San Giovanni, ma come vedete non solo a Nord Italia, ma ci sono fabbriche ABB più o meno in tutta Italia, specificamente per Liguria e Toscana le trovate a Genova e a Ternova Braccionini, appunto vicino a Firenze. Comunque la parte italiana all'interno del mondo ABB non è di poco conto, considerando che con 2 milioni e 2 bilioni e 4 di ricavi possiamo, diciamo, siamo intorno al 10%, qualcosa meno. Qual è la mission di ABB? È sicuramente innovare. Innovare perché il mondo in cui ABB investe è quello del digitale, è quello dell'elettronica, dove dobbiamo sicuramente essere al passo nei tempi ed è il motivo per cui l'1,8% del fatturato viene rinvestito in ricerca e sviluppo. E questo è molto importante nella realtà, ad esempio, dell'e-mobility, dove è un mondo che sta nascendo ora e dove non ci sono ancora gli standard, non è ancora chiara la tecnologia e quindi è importantissimo dettare le regole del mercato e dettare gli standard che andremo a utilizzare. Appunto, mobilità elettrica è uno dei punti dove ABB sta investendo, le energie rinnovabili, siamo presenti in wind, tutta la parte di smart, domotica, gestione dell'energia, tutta la parte di come andare a utilizzare l'energia, l'elettrification, quindi l'energia che abbiamo in casa in maniera smart, bilanciando alcuni consumi con quando l'energia costa meno o quando viene prodotta magari dai pannelli solari. Andiamo ora a parlare più specificatamente di ELEM. Come dicevo prima, ELEM è dentro la business area electrification ed è la nuova divisione e-mobility, una divisione che è nata a marzo, che è presente in ABB abbastanza recentemente, ma che ha visto uno sviluppo esponenziale dal 2012, quando ABB ha comprato una start-up olandese che faceva appunto sistemi di ricarica. Da allora un business che faceva dieci milioni di fatturato l'anno, ad oggi siamo oltre duecento e le prospettive di crescita sono molto rose. Lo vedremo dopo i dati di come si sta espandendo le macchine elettriche, che i vicoli elettrici, gli autobus elettrici danno un market in enorme crescita e su questo ABB vuole investire. Non è soltanto un'opportunità, è anche un'idea della sostenibilità che c'è dietro a tutto questo business. Quindi in questo caso ABB può unire un'idea di business, che è quella comunque di avere un'opportunità di fare investimenti e ricavi, con un'idea che è quella dell'ecosostenibilità. Solo per dare un'idea, soltanto nel 2018, gli employee di EVI, delle Electric Vehicle Charging Infrastructure, erano quattrocento, quindi in due anni si sono già raddoppiati e se vedete il numero di ingegneri che sono presenti è notevole in rapporto agli employee di ELEM. Possiamo affermare con un certo orgoglio che nel 2020 siamo stati market leader, sarà una battaglia dura, il mercato cresce e quindi rimanere sempre in pole position è difficile, però è l'obiettivo che ci siamo posti, che ABB ci sta dando e sostenendo per raggiungere e quindi è assolutamente il nostro target. Perché dico che il market sta crescendo? Queste sono le prospettive di vendita dei veicoli elettrici, se vedete da qui a cinque anni, le prospettive sono di quadruplicare il market, se andiamo a vedere nel numero di punti di ricarica abbiamo tre volte il mercato attuale e anche quello che i governi stanno investendo, quello che società anche private stanno investendo, sta aumentando. Quindi è un mercato assolutamente in ottima salute, che ha un fine di ecosostenibilità e quindi unisce entrambi i due importanti elettristi, che è quello di fare i business in maniera sostenibile. Un breve riassunto di quello che produciamo. Ora qui ci sono alcuni prodotti, ma vedremo dopo che quello che, come dicevo prima, ABB propone non sono soltanto i prodotti, ma sono le soluzioni. Essere dentro ABB permette di avere un prodotto, ma essere in un ecosistema con altre aziende, sempre che fanno parte del gruppo, con cui fare sinergia e offrire ai nostri clienti una soluzione a 360 gradi. E vedremo dopo un esempio. Qui non vado dentro le specificità dei prodotti, ma solo per dire che il nostro portafoglio di prodotti abbraccia veramente dal caricatore che potreste mettere a casa in corrente alternata per ricaricare la macchina, il motorino diciamo con l'utenza domestica a punti di ricarica che hanno obiettivi diversi. Quello autostradale, quindi una ricarica da 10-20 minuti con potenze dai 150 a 450 kilowatt ha soluzioni intermedie per supermercati, centri commerciali e quant'altro dove la permanenza può essere dall'ora alle tre ore e quindi il tempo di ricarica può essere un po' più lungo. Questo è tutto quello che riguarda il mondo macchine, ma la nostra offerta abbraccia anche tutto quello che è l'heavy vehicle charging, quindi tutta la parte di bus, camion, elettrici. Ci sono tante città che stanno passando a elettrificare gli autobus perché questo riesce a battere sia a livello di rumore, un autobus elettrico è assolutamente silenzioso, sia a livello di inquinamento e anche il business model è molto comodo. L'autobus molto spesso la sera si ferma nel deposito e quindi si può andare a ricaricare, ma abbiamo anche delle soluzioni che durante il giro, quindi anche un autobus che debba operare 24 ore su 24, nel momento in cui si ferma, con questi picchi di potenza, può ricevere l'energia sufficiente a finire il suo giro. Queste sono tutte soluzioni che ora vedete qui, ma sono soluzioni che via via ogni 5-6 mesi vengono rinnovate, introdotte di nuove. Posso dire che io sono qui, poi andremo dopo un po' anche sulla mia storia, da due anni e ogni 5-6 mesi il prodotto, i nostri prodotti, cambiano in maniera molto importante. Non siamo a livello dei cellulari, ma ci siamo molto vicini. Un esempio che vi dicevo del non vendiamo soltanto prodotti, ma soluzioni è questo. ATM, l'azienda di trasporto pubblico di Milano, siamo andati a fare un'installazione dei nostri punti di ricarica, ma non coinvolgeva soltanto i punti di ricarica, ma un sistema di batterie per poter livellare l'assorbimento energetico, quindi l'assorbimento avviene durante la notte, ma durante il giorno le batterie si ricaricano per avere un impatto sulla rete minore. C'è tutta la parte di trasformatori, ci sono tutta la parte, come vi dicevo, di load management, quindi di controllo fra le batterie, l'assorbimento della rete e quant'altro. Questo è tutto un sistema che ABB, in questo caso, il business mobility, ha creato. Qual è il nostro footprint? Siamo qui a Ternava Bracciolini, vedremo dopo, fra l'altro entro la fine dell'anno, ci muoveremo in una nuova struttura, ma siamo presenti worldwide. I due centri più importanti sono sicuramente questo, dove c'è tutta la parte di back-end del business, quindi con tutte le funzioni di ricerca e sviluppo, qualità, produzione, MPI, controllo globale della pianificazione. C'è la parte in Olanda, dove appunto, vi dicevo, era nato tutto il business, che ha tutta la parte di front-end, diversi clienti, e poi abbiamo dei centri di ricerca e di produzione in Cina. Specialmente ChargeDot, è un'azienda che è stata comprata all'inizio dell'anno scorso, per allargare il nostro portafoglio e il footprint a livello mondiale. Ci avvaliamo, come tanti altri, anche di partner esterni che sono sparsi un po' nel mondo. L'ultimo punto, prima di vedere un video che traduce tutto quello che vi ho detto, è che proprio per la nostra espansione e la volontà di essere tecnologicamente avanzati ed ecosostenibili, ci stiamo trasferendo in un nuovo sito, cinque minuti da dove siamo ora, a San Giovanni Valdano, quindi sempre nei dintorni di Firenze, un sito studiato, strutturato, per l'Electric Vehicle, quindi che vedrà pannelli solari, punti di ricarica, la possibilità di fare entrare addirittura dentro il laboratorio di R&D, interi camion, autobus, per fare tutti i test. Quindi lo sforzo, l'effort di creare un centro di eccellenza in Italia nella produzione e lo sviluppo dell'e-mobility è veramente un punto importante per APP. E detto questo, vi faccio vedere un video. In questo ambiente dinamico e innovativo avremo l'opportunità di scrivere insieme il futuro della mobilità elettrica. Oltre 3.000 metri quadri saranno dedicati alle attività di ricerca e sviluppo per il design e la qualifica dei nostri sistemi di ricarica elettrici. La struttura sarà caratterizzata dall'integrazione di soluzioni digitali che consentiranno di avere una visibilità completa e l'ottimizzazione dei processi produttivi. La realizzazione di questo nuovo stabilimento è un altro passo importante da BB per la crescita del business e della mobilità elettrica. In questi 16.000 metri quadri nascerà il nuovo centro d'eccellenza globale e sito produttivo per l'infrastruttura di ricarica di veicoli elettrici. Nel nostro DNA abbiamo l'agilità della start-up e la struttura forte della grande azienda. Sviluppiamo, produciamo e vendiamo caricatori di tutte le potenze per le più svariate applicazioni in ogni parte del mondo. La nostra proposta di valore come R&D è quella di creare soluzioni complete avendo a nostro interno tutte le competenze necessarie per fornire caricatori e di qualità. Le nostre idee segnano il passo dell'evoluzione per avere un futuro migliore per noi e le future generazioni. Nel sito ABB di Valdarno portiamo davvero avanti i concetti di sostenibilità e mobilità elettrica. Nel nostro stabilimento avviene l'industrializzazione di tutti gli impianti di ricarica per veicoli elettrici sviluppati dai team globali di ABB. Una volta assemblato il prodotto viene poi validato e testato dal team di Testing Engineering. Questo team si occupa di progettare e sviluppare le infrastrutture e i software di collaudo gestendo potenze che vanno da qualche watt fino a 350 kilowatt. Sicurezza, innovazione e tecnologia sono i fondamenti della nostra organizzazione. Ci occupiamo di garantire la qualità del prodotto del processo e del servizio a 360 gradi dalla qualifica dei componenti al monitoraggio del prodotto finito. Crediamo in che in questo modo possiamo contribuire a diffondere la cultura della sostenibilità. Il nostro team gestisce le richieste provenienti da 74 paesi nel mondo e deve coordinare l'acquisto delle materie prime, la produzione dei caricatori e la spedizione nei tempi richiesti. Abbiamo sviluppato sistemi e processi avanzati di previsione, pianificazione e esecuzione. La nostra soddisfazione è aver trasformato una materia prima in un sistema di ricarica consegnato ai nostri clienti nei tempi previsti in tutto il mondo. Entra a far parte del cambiamento. Abbiamo bisogno della tua energia per migliorare il mondo in cui viviamo. Ok, tutto questo per dire che siamo in espansione e stiamo appunto cercando persone per supportare tutto questo. Ok, velocemente due parole su di me e su come sono arrivato qui e anche per essere un po' di guida per tutti voi. Io sono ingegnere meccanico, ho studiato a Firenze l'accento non mente eppure lavoro in una società che fa soprattutto elettronica. Quando ero all'università era difficile capire cosa avrei fatto dopo. Chi fa ingegnere meccanico a Firenze ha un'entità che è Nuovo Pignone, che fa turbine, fa pezzi meccanici. Io mi ero sempre detto non voglio fare l'ingegnere che disegna, non era quello il mio, però non sapevo cosa avrei fatto. Poi grazie allo stage sono entrato in Gene Electric per vedere alcune cose. mi ha dato la possibilità di girare e mi ha fatto capire che ci sono tanti tipi di lavori che durante l'università non si riescono a vedere, non si riescono ad apprezzare e che poi mi hanno portato qui in questa azienda, in questo momento, a gestire tutto quello che è la pianificazione, la gestione, i flussi e la distribuzione dei materiali e le consegne ai clienti, le strategie di dove andare a produrre e quindi con un punto di vista molto strategico, manageriale ma anche tecnico. Quello che ho come rimpianto durante i miei tempi di università è quello forse di non aver avuto la possibilità di toccare il mondo del lavoro, tranne che durante lo stage, è quello di non essere andato all'estero. Oggi come oggi, l'inglese è un must-to-have e realmente non è più un must-to-have. Quello che posso dire è che con aver fatto ingegneria la differenza si vede, si è in grado di capire i meccanismi che ci sono dietro, i processi e questa è una chiave importantissima. Entrare dentro aziende strutturate come ABB dà la possibilità veramente di lavorare in un ambiente in cui le tue capacità, la tua specializzazione può venire fuori e soprattutto in questa realtà quella in cui oggi io vivo realmente l'opportunità di fare la differenza, di disegnare io insieme al mio team quello che sarà il nostro futuro e questo è una, diciamo, un reward molto importante. Detto tutto questo, passo la parola ad Antonella che vi illustrerà invece la sua esperienza. Grazie a tutti. Grazie Giovanni e buon pomeriggio a tutti e grazie per la vostra partecipazione a questo webinar innanzitutto. Io sono Antonella Andreocci, warehouse manager dello stabilimento di Terrano e Bracciolini dove appunto vengono prodotte colonine di ricarica per le auto elettriche. Sono molto felice di condividere con voi quella che è stata ed è la mia esperienza in ABB che spero, insomma, possa anche aiutarvi per le vostre scelte future. Sono in ABB da 11 anni e sono entrata come laureanda e mi laureavo in ingegneria gestionale alla Sapienza a Roma e nel mio dipartimento c'era la possibilità di poter fare una tesi di laurea compilativa o di fare uno stagio aziendale. Essendo, diciamo, una persona abbastanza pragmatica ed avendo anche terminato il percorso, diciamo, di studi decisi di iniziare a mandare curriculum per fare appunto per richiedere uno stagio aziendale quindi ho mandato curriculum nei dintorni dove vivevo nei dintorni dell'Università e di Roma e ABB appunto mi ha risposto proponendomi uno stagio nello stabilimento di Frosinone. Era uno stagio nell'ufficio logistica e così ho iniziato il mio percorso in ABB con una serie di contratti a termine che poi mi hanno portato nel 2012 ad essere assunta a tempo indeterminato cambiando però il mio ruolo quindi non lavorando più in ufficio logistica ma lavorando nel dipartimento di pianificazione sempre nello stabilimento di Frosinone che fa parte della divisione Smart Power dove vengono prodotti interruttori. Il mio lavoro essenzialmente era l'approvvigionamento la mia responsabilità era quella dell'approvvigionamento nel breve termine dei materiali quindi nei primi anni ho ricoperto questo ruolo per sei anni nei primi anni mi occupavo dell'approvvigionamento diciamo nel breve medio termine dei materiali materiali che servivano poi per assemblare il prodotto finito nelle linee di montaggio e in un secondo momento mi sono occupata poi invece della pianificazione strategica quindi era la pianificazione dei forecast degli interruttori sulla base di un budget annuale che veniva dato e in quegli anni diciamo ho imparato ho imparato molto nel senso che ho iniziato a toccare con mano tutto quello per cui l'università mi aveva dato delle basi quindi non so logiche Kanban just in sequence just in time ho iniziato a vedere le prime distinte base le varie logiche di approvvigionamento ed inoltre ho avuto modo anche di fare networking quindi oltre che collaborare con i miei colleghi dello stabilimento anche di conoscere colleghi di Altra Bibi Italia perché durante soprattutto diciamo grazie diciamo alle risorse umane e nei primi anni nei primi anni c'erano dei percorsi di formazione che venivano fatti per i neoassunti e poi ho partecipato ad altri ad altri percorsi di progetti interfunzionali che mi hanno permesso di conoscere anche altri colleghi a Bibi e quindi di condividere anche le nostre esperienze di conoscerli fondamentalmente ed inoltre sempre durante questi anni ho partecipato a dei percorsi di mentoring ad esempio con figure professionali più senior con cui ho avuto modo di confrontarmi poi nel 2018 l'azienda mi ha offerto l'opportunità di partire in short term assignment per circa un anno negli Stati Uniti lo short term assignment di fatto è un distacco e era un'opportunità fantastica diciamo a cui non volevo e non potevo rinunciare uno dei miei rimpianti maggiori durante il periodo universitario era il fatto di non aver partecipato a dei programmi di studi all'estero quindi di non aver fatto l'Erasmus piuttosto che altri diciamo percorsi ad esempio di tesi all'estero perché ero molto focalizzata a raggiungere diciamo a chiudere il mio percorso di studi entro i cinque anni fondamentalmente e quindi diciamo premetto che ovviamente per partire e per andare negli Stati Uniti di base sono una persona molto curiosa e dinamica e quindi ho accolto al volo questa opportunità e sono partita ho lavorato per un anno in una fabbrica statunitense dove vengono prodotti interruttori si trattava di una fabbrica gemella dello stabilimento di Frosinone ma che serviva il mercato americano ed essendo la fabbrica molto giovane il management ha ritenuto che la mia esperienza maturata durante quegli anni potesse essere utile al raggiungimento di due obiettivi principali che erano l'implementazione di un sistema di pianificazione robusto simile a quello di Frosinone e lo sviluppo di un sistema di warehouse management system quindi tracciabilità dei materiali all'interno del magazzino di fabbrica viveva a Memphis nel Tennessee e la fabbrica era a Senatobia a circa nel Mississippi a circa 45 minuti di distanza e all'inizio diciamo c'è stata ovviamente qualche difficoltà soprattutto un po' legata alla burocrazia ho dovuto anche studiare per prendere la patente americana però è stata un'esperienza bellissima che consiglierei a chiunque abbia un po' di curiosità di uscire e di confrontarsi e che grazie ad un'azienda come ABB ho potuto fare l'ambiente di lavoro era un ambiente multiculturale quindi un po' come lo si vede nei film lavoravo giornalmente con indiani con americani con messicani francesi c'erano anche degli italiani che mi hanno aiutato anche ad ambientarmi diciamo in un paese nuovo e mi sentivo veramente estremamente fortunata il fatto di lavorare in un ambiente culturale porta poi ovviamente anche a ad un confronto giornaliero su quelle che sono anche le concezioni dell'azienda e del lavoro che possono essere diverse da paese a paese e mi sono sentita molto orgogliosa di aver di aver insegnato cose per cui le nostre fabbriche ABB in Italia sono e sono erano sono tuttora considerate dei centri di eccellenza e dei punti di riferimento in un anno ho completato tutte le mie attività con successo sono rientrata in Italia e dopo qualche mese quindi ad inizio 2020 lo scorso anno forte della mia esperienza ma anche del mio crescente interesse verso la logistica e l'ambito logistico mi sono trasferita a Terra Nova Bracciolini in Toscana dove c'era appunto la posizione di warehouse manager che ricopro tuttora e anche in questo caso avevo voglia di sperimentare un diciamo un altro business che una multinazionale come ABB potevo offrire e quindi il settore della e-mobility per me era molto stimolante in questo senso ad oggi diciamo che parallelamente a tutte le attività del day by day che del mio ruolo diciamo stiamo progettando un nuovo stabilimento quello che appunto Giovanni ha fatto vedere prima e sarà e in particolare mi sto occupando della progettazione e realizzazione di un magazzino completamente automatico e digitale anche questo è un ulteriore step diciamo nella mia curva di apprendimento che mi porta ovviamente a fare bene ogni giorno e fare meglio e qui a Terra Nuova ho trovato un ambiente di lavoro molto dinamico così come lo è il mercato e c'è un canale di comunicazione anche molto veloce tra e diretto tra le persone e il management che a me personalmente piace molto e c'è sempre spazio per nuove proposte che arrivano da giovanimenti anche come voi quindi diciamo alla domanda perché dovreste scegliere di lavorare in ABB sulla base di quella che è stata la mia esperienza di questi undici anni sicuramente perché è un'azienda che sta facendo molto per accompagnarci tutti verso un futuro sostenibile ed è bello essere parte attiva del cambiamento perché è un'azienda che crede molto nelle persone nel loro valore ed è molto attenta anche alla loro sicurezza sul lavoro perché come è successo anche a me c'è sempre modo di esplorare di cambiare ruolo di reinventarsi e perché non importa quale sarà la vostra seniority professionale ma avrete sempre modo di imparare ogni giorno da parte mia è tutto e passo la parola a Daniele grazie a tutti grazie Antonella grazie buon pomeriggio a tutti io sono Daniele Malorgio Giaffreda e vengo da Roma e mi occupo di Master Scheduling qui in ABB diciamo che prima di raccontarvi un po' il mio percorso qui in ABB ieri sera ero a casa e pensavo visto che la mia età è molto giovane quasi vicino diciamo così alla vostra più o meno vi chiedevo cosa potremmo raccontare agli studenti che stanno per laurearsi o si sono laureati e che si stanno affacciando per la prima volta nel mondo del lavoro visto che proprio fino a qualche anno fa ero più o meno nella vostra stessa situazione e con le stesse paure quindi diciamo sì mi sento anche molto vicino innanzitutto lasciatemi dire che l'università italiana penso sia una delle migliori università a livello globale e la facoltà la facoltà di ingegneria principalmente avendo io studiato ingegneria gestionale a Roma oltre ad aprire probabilmente la strada in modo molto più semplice rispetto ad altri tipi di percorsi o indirizzi ci rende anche molto più elastici mentalmente ci apre di fatto la mente ti fa affrontare le varie situazioni in modo totalmente differente hai una visione completa di quello che ti sta succedendo e sei in continuo miglioramento perché cerchiamo sempre di trovare soluzioni alternative che possano migliorare magari i processi o le attività che stiamo svolgendo in quel momento per noi stessi e anche per gli altri lasciatemi però dire anche che se è vero l'università italiana è una delle migliori a livello teorico è vero anche che forse manca qualcosina a livello pratico perché di fatto si fa molto poco questo gap lo si nota nel momento in cui ci prestiamo a dover entrare nel mondo del lavoro nel momento in cui ci mettiamo a lavorare per la prima volta si osserva che quello che abbiamo studiato poi difficilmente viene messo in pratica al cento per cento perché molto spesso nessuno di noi sa e io per esempio non lo sapevo cosa volesse dire lavorare in un'azienda ad esempio come ABB o come tante altre cosa vuol dire essere un analista o un manager abbiamo queste magari figure mitologiche ma non sappiamo poi alla fine queste cose effettivamente vadano a fare perché magari abbiamo vissuto fino ad oggi in un mondo fatto di libri weekend da studiare pauri di esami eccetera il mondo del lavoro è di fatto frenetico non aspetta un weekend libero e molto spesso ti trovi a dover affrontare delle criticità che se non vengono risolte in modo velocemente in modo molto veloce possono impattare anche l'azienda stessa in modo devastante quello che io consiglio spesso ed è anche quello che ho fatto è quello di affiancare molto spesso l'università ad un'esperienza che sia o meno lavorativa ma un'esperienza perché anche se banale questa può farvi crescere personalmente e caratterialmente e riuscite di fatto a colmare parte di quel gap che c'è appunto tra la pratica e la teoria pensate ad esempio mi è venuto questo esempio al lavoro di un cameriere per quanto possa essere nobile se ci pensate cosa stiamo imparando in quel momento stiamo imparando a ricevere ordini da un responsabile da un capo anche se non siamo completamente in accordo con lui stiamo imparando a prenderci cura di quello che potrebbe essere il nostro cliente finale a gestire le varie attività che ci vengono fornite e stiamo imparando sicuramente a dare valore a uno stipendio al denaro crescendo di fatto anche come persone pensate ai delivery a domicilio ai just it di turno io conosco molte persone anche io durante il mio percorso universitario ho fatto diciamo anche questo tipo di lavoro pensate a questo chi si trova a dover gestire diversi tipi di consegne ad esempio stiamo dando di fatto diciamo così abbiamo tempi diversi distanze differenti in quel momento cosa abbiamo stiamo dando delle priorità in base all'orario alla distanza stiamo se vogliamo parlare in termini matematici facendo ottimizzazione combinatoria cioè quello del calcolo del percorso minimo per raggiungere fondamentalmente l'obiettivo per cui un consiglio è veramente quello di fare quante più esperienze si possano durante il proprio percorso universitario perché sicuramente queste ve le ritroverete più avanti assolutamente al fine del percorso poi ci sarà di fatto da prendere una strada il mio consiglio è comunque quello di rifletterci il giusto ma prendetela velocemente perché come diceva Giovanni e come ho detto anche prima molto spesso la realtà lavorativa è molto diversa dalla realtà universitaria io non avevo le idee chiare di fatto su cosa avrei fatto su quello che mi sarebbe piaciuto perché a noi magari molto spesso piace l'idea di una cosa in base anche ai nostri tipi di studi fatti ma finché non la testiamo non sapremo mai se quella cosa poi ci piacerà veramente oppure no perché lavoro è una cosa e quello che studiamo a volte può non essere di fatto allineato per questo ragazzi veramente buttatevi e in bocca al lupo veramente però una cosa ci terrei a sottolinearla perché molto spesso viene data non viene neanche secondo me detta però è importante sottolinearla nel momento in cui si accetta anche una prima esperienza lavorativa nel bene o nel male ci stiamo anche specializzando in quella cosa e se non siamo di fatto poi convinti fino in fondo è sempre trovare il giusto percorso in tempo perché poi dover ricominciare da capo potrebbe essere magari troppo tardi potrà essere tardi o non so quindi anche attenzione alle scelte che poi vengono di fatto fatte nella scelta del primo percorso lavorativo io ad esempio ho studiato ingegneria a Roma e ho iniziato a lavorare proprio durante il mio percorso di tesi presso un'azienda e l'ho fatto proprio durante il mio percorso di tesi tramite uno stage perché ero curioso di capire ed erano anni che volevo capire cosa volesse dire lavorare proprio in quel tipo di contesto in quell'azienda principalmente che una volta concluso il mio percorso di studi non volevo rimpianti di aver accettato una cosa piuttosto che magari un'altra ed è stato proprio durante quel periodo che ho capito realmente cosa mi piaceva per farla breve l'idea di continuare a lavorare in quel contesto lavorativo non è che mi entusiasmava più di tanto anche se d'altra parte c'erano dei riconoscimenti economici è una crescita a livello di carriera che era molto più veloce quindi sono cose che per un ragazzo magari che esce dall'università fanno gola tutti usciamo da lì e pensiamo magari allo stipendio a quanto cresci velocemente però col tempo impari anche che non è la cosa importante la cosa importante è fare qualcosa che piace perché lo stipendio arriva una volta al mese uno magari ci deve vivere ma al lavoro ci devi andare tutti i giorni e probabilmente fino per 30-40 anni lo devi fare quindi se una cosa non ti piace difficilmente ti piacerà quindi questo è il mio consiglio di fatto quello che che volevo raccontarvi è che in quel periodo mi sono accorto che a me piace molto impianti industriali che è un esame che si fa di fatto all'università e proprio in quel periodo di fatto mi contattò a BB qui a Terra Nuova Bracciolini partecipai ad un assessment quasi per curiosità perché diciamo a volte lo fai più che per curiosità che per oddio ora mi prendo probabilmente lo fai per curiosità e con la speranza di e dopo tre colloqui di fatto veni preso è stato difficile diciamo venire qui da una città come Roma perché comunque sono dei paesi anche se a 30 chilometri di distanza da Roma e sì da Firenze però diciamo i posti che sono qui nei dintorni sono molto belli sei nel pieno Chianti ci sono i borghi più belli d'Italia si mangia comunque benissimo ed è solo una questione di tempo alla fine l'ambientamento in zona io sono entrato in ABB all'inizio nell'ufficio acquisti come buyer ero un buyer dedicato alla produzione dei materiali per le colonie elettriche e pianificavo l'arrivo più o meno di tutti i materiali seguendo anche uno schedule che veniva dato di fatto dall'ufficio di pianificazione dopo circa un anno mi sono trasferito nell'ufficio di pianificazione ed ero diventato un planner dedicato ad una famiglia di prodotti quella del Terra 54 di media potenza che vanno fino a 50 kilowatt pianificandole la produzione interna e anche quella dei nostri MS che sono delle fabbriche che sono dislocate all'interno di fatto così del nostro globo mantenendo però una parte di quelle funzioni di acquisto dei materiali primi dedicati ad alto valore aggiunto ero un planner buyer dopo un anno e mezzo e dopo la divisione che abbiamo avuto c'è stata un'ulteriore riorganizzazione interna e mi sono spostato all'interno del team di Giovanni nella diciamo così pianificazione globale di quello che è il mercato dell'e-mobility quindi diciamo così in questa nuova figura quello che si fa è oltre a pianificare le attività di breve medio e lungo periodo abbiamo anche un occhio a quello che sono i vari forecast che arrivano dalle varie sales che sono dislocate a livello nazionale su tutto il globo devo dire che durante questo percorso di crescita anche qua l'ABB è molto attenta sto proprio in questo momento affrontando anche un percorso di mentoring e sono affiancato ad una persona di alto livello che si trova sempre qui in ABB non nel nostro stabilimento quindi esterna con il quale ci sentiamo periodicamente e informalmente per discutere di fatto situazioni scambiare opinioni e magari far tesoro anche di insegnamenti che sono sicuramente molto più preziosi di quanto posso aver imparato io in questo breve ma intenso periodo di ABB proprio perché sono figure di alto livello io avrei finito e vi ringrazio per l'attenzione grazie mille Daniele grazie del tuo intervento adesso chiudo io in 5 massimo 10 minuti che ho visto che ci sono già un po' di domande e condivido velocemente lo schermo ok allora io mi occupo appunto di risorse umane quindi sono un po' distante dalle appunto i colleghi che avete appena sentito parlare ma è bello fare questa parte alla fine perché alla fine dopo appunto le esperienze personali si tirano un po' le somme e si rivede un po' in quelli che sono i nostri valori anche le esperienze dei singoli colleghi ABB ci piace sempre condividere questa slide che sono 5 punti che noi abbiamo identificato per rispondere alla domanda perché scegliere ABB e perché ABB allo stesso tempo questi questi 5 pillar pilastri diciamo della nostra azienda rispondono anche alla domanda cosa non può mancare a un dipendente ABB perché sono appunto dei tratti che cerchiamo in potenza ovviamente come potenziale cerchiamo di sviluppare sempre di più nei nostri dipendenti come vedete abbiamo lavora con un obiettivo preciso mettiti alla prova pensa globale sia un pioniere della tecnologia sia un leader collaborando con la tua squadra partirei da pensa globale che mi sembra un punto che hanno toccato più o meno tutti e tre i miei colleghi che mi hanno anticipato ABB è una realtà appunto è una multinazionale è una realtà presente in tutto il mondo dall'America all'Asia al Sud Africa appunto all'Europa e questo non è solamente in termini di localizzazione delle sedi ma veramente noi lo viviamo quotidianamente nel lavoro di tutti i giorni il mindset e il modo di lavorare l'approccio al lavoro è globale gran parte dei nostri clienti anche qua in ABB Italia non sono italiani quindi questo comporta proprio interfacciarsi quotidianamente con utenti stakeholder come si chiamano che non sono appunto italiani quindi c'è questo modo di lavorare questo approccio al lavoro estremamente internazionale spesso capita anzi praticamente tutti i colleghi di ABB lavorano sempre anche su progetti non locali ma globali quindi è una dimensione per noi molto importante abbiamo poi mettiti alla prova e sei un pioniere della tecnologia questo è un tratto che anche questo è essenziale ossia un po' lo spirito imprenditoriale la voglia di mettersi in gioco di mettersi alla prova di esprimere la propria opinione anche se magari da da correggere da sistemare però appunto ABB vive di innovazione è un'azienda estremamente innovativa e i giovani i nuovi entrati appunto in azienda sono sicuramente una risorsa fondamentale per noi e per questo la capacità delle nuove persone di mettersi alla prova e di dare la propria opinione proporre le proprie idee è un po' l'infa vitale anche per per l'innovazione di ABB abbiamo poi si un leader collaborando con la tua squadra qua c'è un po' una doppia un doppio significato quindi da un lato il tema della leadership e dal lato la dimensione di team di squadra questo perché noi e i colleghi lo possono confermare noi lavoriamo in team sempre quindi è il nostro approccio modo di lavoro lavoriamo molto a progetto quindi questo richiede anche appunto il lavoro in team sia team di le persone che si siedono di fianco a te ogni giorno in ufficio sia team internazionali globali quindi questo significa anche lavorare con persone che magari hanno background di culturali totalmente diversi dal nostro modi di modalità di lavoro totalmente diverse dalle nostre e anche magari background di studi e di esperienza si può lavorare con persone magari che hanno profili più economici più soft o piuttosto che persone invece più estremamente tecniche quindi la dimensione di team è fondamentale ma anche qua ritorna la capacità di mettersi in gioco mettersi alla prova e quindi essere anche leader all'interno del team quindi riuscire a dare il proprio contributo anche se anche se si lavora sempre in team anche il contributo individuale è fondamentale è fondamentale che emerga anche all'interno di una squadra infine abbiamo lavora con un obiettivo preciso che è legato un po' anche alla natura del nostro del nostro business come appunto hanno anticipato i colleghi noi lavoriamo il fine ultimo un po' è rendere il mondo un luogo più sostenibile quindi guidarci verso un futuro più sano e più prospero quindi lavora con un obiettivo preciso sia legato un po' a questo fine ultimo di ABB sia legato proprio al nostro modo di lavorare perché appunto lavoriamo a progetti e ad obiettivi quindi queste sono un po' le ragioni per cui noi ci sentiamo di consigliare ovviamente ABB ma anche quello che chiediamo lato competenze soft ai nostri candidati alcune competenze che si possono appunto tirar fuori da questo slide sono sicuramente la capacità un livello sufficiente di inglese questo dipende poi da posizione a posizione quindi non è sempre necessario un livello altissimo ed essere fluenti dipende poi dai clienti e dal team però generalmente è un requisito che noi chiediamo sempre può esserci appunto la capacità allo spirito imprenditoriale la capacità di pensiero critico è fondamentale capacità di lavorare in team quindi appunto a questi punti si possono estrarre diverse competenze che ricerchiamo e che magari possono aiutare anche voi nell'orientarvi e nel formarvi nel sviluppare le vostre esperienze abbiamo poi una presentazione un po' dei possibili percorsi di carriera in ABB abbiamo diverse aree che queste aree sono adesso avete sentito parlare appunto i colleghi di una specifica divisione noi siamo organizzati appunto in quattro business serie all'interno ci sono le divisioni ma all'interno delle divisioni siamo più o meno strutturati in queste aree quindi abbiamo engineering marketing e vendite manufacturing che è una produzione ricerca e sviluppo le funzioni aziendali e il service le funzioni aziendali sono quelle classiche comuni a tutte le aziende quindi contabilità risorse umane finance per esempio poi abbiamo invece marketing and sales dove abbiamo team eterogenei quindi sia con persone con profili più ingegneristici più tecnici perché anche qua inseriamo persone con background di studi di tipo ingegneristico questo perché vendiamo prodotti e soluzioni altamente tecnologiche quindi è necessario anche qualcuno che le comprenda a fondo e abbiamo anche poi persone con background economici poi abbiamo invece i classici percorsi un po' più tecnici che sono engineering manufacturing e R&D anche service è un'area un po' più un po' più ibrida questi sono un po' i percorsi di carriera ovviamente all'interno ce ne sono ci sono mille sfaccettature e mille diversi percorsi come avete sentito un po' dai racconti precedenti abbiamo poi il processo di selezione volevamo darvi qualche informazione sul processo di selezione che sono sempre informazioni utili per chi si sta interfacciando adesso col mondo del lavoro appunto per candidarsi si può andare noi abbiamo il portale carriere anticipo già una domanda che mi sembra di aver visto dal nostro portale carriere che poi vi posso mettere il link all'interno della chat potete filtrare il paese perché potete ovviamente candidare anche in altri paesi di abb potete filtrare il paese la sede in italia quindi mettere terra nuova bracciolini piuttosto che l'area o livello di esperienza quindi da lì trovate tutte le nostre posizioni aperte in alternativa potete fare anche una candidatura spontanea segnalando nella lettera di presentazione magari quali sono un po' più i vostri interessi pubblichiamo anche contemporaneamente sempre le posizioni su linkedin dopo appunto la candidatura nel caso in cui il curriculum risponde al profilo in linea generale che stiamo ricercando venite contattati per un colloquio telefonico con le risorse umane e ricevete un test di inglese da completare quindi appunto qua ritorna la necessità più o meno dell'inglese svolti questi due step quindi superato il colloquio telefonico e il test inglese nel caso di opportunità di stage si passa direttamente al colloquio con il manager che vi dovrebbe inserire nel suo team oppure invece in caso di opportunità di contratti quindi a tempo determinato in determinato apprendistato facciamo un assessment center quindi una mezza giornata insieme a noi del team di talent acquisition in cui si compone di una parte di dinamica di gruppo una parte di colloquio individuali e appunto al termine una settimana dopo l'assessment ricevete l'esito in caso di esito positivo venite invitati a fare il colloquio con il manager nel caso in cui magari l'assessment ha esito positivo ma nel frattempo la posizione non è più disponibile per diverse ragioni il vostro assessment resta comunque valido e se vi candidate siete interessati ad altre posizioni non dovete più svolgere questa parte del processo di selezione quindi questo è un po' un'informazione utile passerei quindi direttamente alle domande visto che ho visto già alcune alcune domande in chat vediamo allora qua chiedono buongiorno quando sono diffusi in ABB gli short term assignment all'estero più in generale la mobilità come nel caso di Antonella quanto conta la volontà del singolo di intraprendere un percorso del genere allora qua posso rispondere anche io allora sicuramente conta la volontà del singolo assolutamente non si viene obbligati a fare nulla noi abbiamo dei momenti formali di dialogo con i nostri manager di linea in cui possiamo mostrare il nostro interesse piuttosto che il nostro desiderio a fare un'esperienza di un cambio di ruolo piuttosto che è un'esperienza in un altro paese per apprendere quindi nasce un po' in accordo con il proprio manager e dopodiché eventualmente si aprono le diverse opportunità non so se Antonella vuoi spiegare di preciso come è emersa la tua l'opportunità in cui hai partecipato allora sicuramente per rispondere alla domanda alla domanda diciamo a chi l'ha chiesto bisogna anche anche nel mio caso in particolare bisogna anche avere acquisito un minimo diciamo di esperienza che permette insomma poi di raggiungere determinati obiettivi all'estero ecco quindi magari partire per andare in uno stabilimento estero da neolaureato o da profilo diciamo abbastanza junior non è quello che è capitato a me tantomeno non so se penso che poi ci siano anche dei programmi volti diciamo alle persone neolaureate programmi di formazione specifici nel mio caso in particolare ho acquisito comunque un 6-7 anni di esperienza lavorativa prima di prima di fare questa esperienza all'estero ecco perfetto grazie mille allora vedo più o meno per cambiare un attimo argomento visto che purtroppo abbiamo poco tempo e poi forse c'è un'altra presentazione andrei su un'altra domanda che chiede appunto è previsto impiego a distanza dando comunque disponibilità trasferte anche frequenti allora dipende un po' un po' dei profili noi abbiamo la nostra politica di smart working per cui sì lo smart working è parte della nostra modalità di lavoro sicuramente magari in una fase iniziale in uno stage piuttosto che in una posizione a tempo determinato in cui comunque è necessario un po' di formazione on the job come si viene chiamata è preferibile diciamo essere un po' partecipativo andare con più frequenza sul posto di lavoro questo poi dipende ovviamente tantissimo dalla tipologia di lavoro dal team dal manager quindi è veramente un discorso che varia da situazione a situazione vediamo per Giovanni che tipo di batterie vengono utilizzate per le vostre soluzioni di ricarica rapida sì avevo risposto utilizziamo dei sistemi UPS poi dipende molto dalla tipologia di spazio efficienza le caratteristiche vengono diciamo richieste sono tra l'altro prodotte un altro diciamo nel nostro ecosistema BB e quindi rientra tutto diciamo nell'offerta che andiamo a produrre soltanto un punto rispetto a quello del lavorare a distanza perché come dicevo prima stiamo cercando in varie aree gestionali ingegneri informatici quindi stiamo cercando se andate a vedere nel sito diverse posizioni di pianificazione buyer e quant'altro profili che possono sembrare molto generalisti ma in realtà dietro la pianificazione c'è molta teoria ci sono corsi di vario tipo anche di enti internazionali tipo APICS e quant'altro che sono focalizzati solo su questa materia e molto spesso dall'università sono un po' tralasciati ma nella realtà aziendale sono importantissimi tutte le aziende vediamo un'altra domanda come pianificate le attività utilizziamo i sistemi MRP gestionali e altri sistemi avanzati di pianificazione ci permettono di capire cosa deve essere fatto quando in che quantità e quant'altro tutti questi sistemi hanno infiniti modi di lavorare e il decidere i setup gli approcci i flussi i processi fa parte proprio del lavoro del pianificatore che non è semplicemente una toma che preme un pulsante ma che deve capire come far girare il sistema quali sono i tasti che deve realmente i task che deve realmente eseguire tutto questo può essere fatto a distanza non all'inizio come diceva Gaia ma solamente l'inserimento è vitale e anche sul dopo volendo lavorare in team volendo sempre innovare essere presenti poter far girare le idee avere essere qui e capire cosa sta succedendo è un pezzo molto importante in realtà statiche è molto più facile in realtà di Nightroom è questa è ancora un po' presto è vero grazie grazie mille Giovanni perfetto fare una risposta un po' generale a chi appunto ha parlato del proprio percorso di studi ingegnere gestionale piuttosto che ingegnere automobilistico allora appunto tutto torna sempre allo stesso discorso siamo veramente una realtà grandissima adesso abbiamo parlato di mobility perché appunto parliamo della sede di Terra Nuova Bracciolini che in Toscana è che ha tante posizioni aperte e in apertura nei prossimi mesi quindi abbiamo visto questa parte ma in realtà appunto ABB ha tantissime aree sì cerchiamo ingegneri gestionali come piuttosto ingegneri automobilistici a volte non si tratta magari del profilo proprio per esempio automobilistico che sembra molto specifico ma delle competenze che vengono acquisite con questo percorso di studio quindi c'è molta flessibilità come lo stesso succede piuttosto con un'ingegneria meccanica ci sono delle competenze magari degli interessi personali che possono portare a uno specifico ambito sicuramente come diceva Daniele sono d'accordo sul fatto che è molto importante anche non buttarsi ma valutare un po' scegliere con criterio anche le posizioni e l'area ovviamente una realtà come ABB ha anche il vantaggio che si può cambiare c'è una forte mobilità interna abbiamo delle politiche proprio che che tutelano e supportano i nostri dipendenti a valutare diversi percorsi e diverse aree quindi questo permette un po' di trovare quello che più ci piace più è adatto anche al nostro percorso e alle nostre competenze linea generale mi sembra di aver risposto più o meno ovviamente ci sono domande specifiche io vi devo salutare assolutamente ci salutiamo tutti che il tempo è scaduto grazie a tutti e speriamo veramente di potervi vedere aspettiamo assolutamente le vostre candidature e speriamo di aver suscitato il vostro interesse grazie mille a tutti ciao a tutti ciao a tutti ciao ciao